Il risparmiatore deve seguire se vuole gestire meglio i propri risparmiatori. Il risparmio deve seguire se vuole gestire meglio i propri risparmiatori. Il risparmiatore deve seguire se vuole gestire meglio i propri risparmiatori. Dunque laddove ci sono delle donazioni fa sempre bene sia al donante ma soprattutto al ricevente. Il risparmiatore deve seguire se vuole gestire meglio i propri risparmiatori.